Eccoci nella seconda parte del nostro rilassamento a livello cellulare. Adesso il nostro corpo è calmo, pacifico e la mente riesce a controllare le nostre sensazioni che vengono da dentro e fuori. Quindi notando le sensazioni di rilassamento, proviamo così un vero e proprio esperimento di benessere che comincia dall'alto fino a poi ad arrivare al nostro stomaco. Che viene come avvolto da una guaina di relax, che aiuta ad allontanare le tensioni e anche, vuole dire, provare uno stato di benessere istantaneo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.